L'emorragia di personale è tenuta saldamente sotto controllo. Così la manager facente funzioni dell'ASL dell'Aquila, Maria Simonetta Santini, risponde alle poderose polemiche dei sindacati sulla carenza di personale nei presidi ospedalieri della provincia. Mancano circa mille unità lavorative, hanno denunciato i sindacati nei presidi e nei sitini degli ultimi giorni. Una carenza riconosciuta anche dalla dirigente che ha preso il posto di Rinaldo Tordera il 15 marzo scorso. Santini respinge al mittente l'ipotesi che nell'ASL aquilana ci sia una situazione caotica. Nessuna emergenza, dice la dirigente, eccetto il grande buco nero della radiologia, dove su una graduatoria di 43 persone hanno risposto in due alla chiamata dell'ASL, lasciando scoperto lo screening mammografico. Che ci sia una carenza di personale è innegabile, ma il problema è atavico, non è di questi ultimi mesi. Il numero di dirigenti medici a tempo indeterminato sia in verità nell'ultimo semestre aumentato seppur di due unità e che analogamente al personale in servizio, a tempo indeterminato, determinato, somministrato, eccetera, si sia passati dalle 3642 unità alle 3691, quindi un incremento di 49 unità. Detto questo, posso anche dire che sono state avviate molte procedure concursuali e anche di mobilità per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici. Posso dire che sono state fatte per il pronto soccorso, e qui leggo per non dimenticare, quindi pronto soccorso, pediatria, psichiatria, medicina trasfusionale, matologia, radiologia, cardiologia, ginecologia, urologia, malattie infettive, chirurgia generale e organizzazione dei servizi sanitari di base. Quindi si sta procedendo a mettere, diciamo, a fare procedure in modo tale da riempire questi vuoti. Ora, la carenza dei professionisti, dei medici, non è una carenza semplice da analizzare. Come dire, le carenze sono dovute a una cattiva programmazione, diciamolo, nazionale e forse anche regionale. I problemi affondano le loro radici nel passato, dice Santini, nelle scelte fatte dalla politica nazionale e regionale. Sbagliato anche l'approccio di università e scuole di specializzazione, che ne decenni non hanno fatto una buona programmazione, e adesso il numero di medici e degli specialisti non basta più a coprire e fa bisogni, soprattutto per la radiologia, le anestesie e le diverse branche chirurgiche. Occorre, insomma, una grande operazione di riorganizzazione, della quale deve farsi carico, prima di tutto, alla politica nazionale.